Noi siamo in procinto di prepararci qua, Zelig si sta approssimando e noi di quando in quando vogliamo arrivare nel tendone preciso e forte. Amici di Zelig ci stiamo a propinquando, ora siamo microfonati ed esca la voce ed entrino le gente. Ciao ragazzi, sosteneteci eh! Signore e signori buonasera, vi ricordiamo che lunedì 14 gennaio su canale 5 inizia Zelig Circus. Zelig Circus, canale 5, prima serata, siamo tornati, credibili. Stiamo tornando, Zelig Circus. Grazie. Grazie a tutti.